Il primo round delle amministrative finisce a 7 a 3 per il centrodestra. Conquistate infatti Palermo, Messina, Genova, L'Aquila, Pistoia, La Spezia e Belluno. Nel capoluogo siciliano finisce l'era Orlando. Roberto Lagalla strappa al centrosinistra la poltrona di primo cittadino. Con il 49,2% batte Franco Miceli che si ferma al 28,7%. A Genova fa il bis il sindacusciente Marco Bucci che riconquista la città con oltre il 55% dei consensi. Appoggiato senza simbolo anche da Italia Vive e Azione. Ben 17 punti in più dello sfidante, dell'astrologo. Altra conferma del centrodestra all'Aquila. Biondi supera il 51%. Fa discutere il risultato di Stefania Pezzopane, presidente della provincia ai tempi del terremoto, che arriva soltanto terza. Il centrosinistra si afferma a Padova con la vittoria del sindacusciente Giordani. Torna la conquista di Lodi con il 25enne Dan Furegato, campione di Judo, che ha battuto l'ormai ex prima cittadina leghista Casanova. Successo a Taranto dove vince Melucci con oltre il 60%. Poi c'è il caso Parma dove a dare le carte è ancora l'ex sindaco, un tempo grillino, poi cacciato dai 5 Stelle, Federico Pizzarotti. Sì, perché al ballottaggio va Michele Guerra, ex assessore che con il 44% dei voti doppia il suo rivale Vignali, puntando a vincere al secondo turno. Centrosinistra avanti nei ballottaggi anche a Verona con l'ex calciatore Damiano Tommasi e a Piacenza. Va al ballottaggio anche un altro capoluogo di regione, Catanzaro, condonato, ex PD passato con il centrodestra in vantaggio sul progressista Fiorita. Questo è il bilancio del primo turno. Per un quadro definitivo occorre aspettare il 26 giugno, quando 13 città capoluogo andranno al ballottaggio.